e poi lo stendiamo con una spatola Ho alzato nel 550 questo soffitto di un metro lui ha fatto questo vecchio rinno vado a portare in sua mano prima una mano fino e la propiettiva abbassata di un metro e si è su Washington ...questa lettera e il principale è Gesù Capitano e meglio sapere di questa lettera, la trovo in articolato certo, è bellissimo. ...e riconoscire il secondo pegnato.